Buongiorno, sono precisamente le 8, il telefono mi ha appena dato il buongiorno e oggi non sono semplicemente le 8, sono le 8 del giorno di Halloween, 31 ottobre E stasera abbiamo programmato una bella bella cosa, prima abbiamo una bella e durissima giornata dell'università che partirà tra esattamente mezz'ora, meno male che abito vicinissimo Oddio santo, c'è un vento assurdo, come farò ad andare? Fuori c'è il diluvio universale, letteralmente no, è caduta pure una pianta in giardino Allora, sono passato un po' di ore, sto letteralmente in pausa pranzo alle 11 e mezza, perché poi alle 12 ho lezione E stamattina, col vento che c'era, ho perso una cuffietta, cioè mi è volata via un airpod con il vento Più, cioè, vi giuro mi ero messo a urlare in mezzo alla strada, ma posso avere così tanta sfida, non è possibile Tornerò in uni Devo dire veramente una F di livello È successo di tutto, prima di tutto ho fatto il mio bel lavoretto, che spacca, devo ancora finirlo, penso che dovrò prenotare il laboratorio Ed è successo l'impossibile Ok, sono tornato a casa, aggiornamento incredibile sulle airpod, da nulla un mio compag... Jack Daniels, 24 euro 24 euro? Non lo so, ma canso aveva fatto la lista di alcol Esce un mio compagno a caso, a caso per comprare le sigarette, uno dei tre a cui avevo detto questa storia delle airpod E torna con la mia airpod in mano E torna con la cuffietta in mano Non potevo essere più sculato Eccole qua, questa è quella che avevo perso E col cavolo che me la rimettono le orecchie prima di disinfettare Comunque penso che funzioni Il che non è scontato, è rimasta sotto la pioggia due ore Ora ho un po' di cose da fare Prima di tutto, non le faccio da un po', non mi ricordo Mi sono mancato un sacco Mansioni giornaliere Ok, ora io dovrei editare un video che avevo intenzione di preparare Non so quando lo farò uscire Ma sicuramente dopo di questo Perché questo vorrei farlo uscire domani, precisamente Prima vado di corsa a cagare Nuovi pesci L'altro nuovo che cerca di entrare con i tre nuovi Cioè il fatto sta che sì, ne avevamo presi altri due Uno di questi due, non so per quale motivo è morto C'è questo qua invece che è quello vecchio che sta malino Stiamo cercando di curarlo, tra virgolette Però non siamo sicuri che ci riusciremo comunque a cinque anni E questi qui sono tre nuovi Non so perché ma mia sorella mi ha chiesto di rimanere ad osservarli finché non torna Quindi ho dovuto interrompere l'editing del video Mannaggia Perfetto, video editato In realtà ho scoperto che si parte abbastanza tardi Quindi abbiamo tutto il tempo del mondo Allora, piano della serata Non so quanto vloggerò là Però va bene In questo momento sto ultimando le modifiche della playlist Guardando Lupin Mi sto facendo i nuggets per cena Perché ho scoperto che non ce n'ho lì E poi E poi Mi porteranno in macchina E mi devo far trovare davanti a casa Piano piano Stiamo andando Devo andare a casa del PJ Quanto è creepy quell'edificio da uno a Boh Che belle le robe così tematizzate Le adoro Stiamo partendo Il PJ Signora censura cosa ne pensa? Tutto bene per ora Hai ancora censurata? Non lo so Dipende da Sono ancora censurata sì Scusa Vuoi ancora la censura? Sì assolutamente Allora ti metto ancora la censura Prezzano su una vista C'è l'odore di aria pulita Cosa ne pensa PJ? Signori È tempo per me Di uscire l'unica forma di maschera che ho Qua caga Mi hanno avvertito tardi Che non si è andata più da altre parti E quindi E quindi ora lo prendiamo a sprangate Sembra giù Che è sto? Oh mio Dio È tutto ferito Ma che è sta? Di accanto sei impegnato con la tematizzazione? Allora Giro dei costumi C'è Cello Che è vestito da Top Gun Non ha senso Peregus Peregus Da cosa sei vestito? Da Bello mio fratello Fa vedere fa vedere fa vedere fa vedere Che schifo Belligos Tutto ciò vorrei far notare il ciuffetto di seba Guarda che bello Un sacco di flash da tramite Cos'è il video YouTube? Sì Apparente Perché sento i miei video? Da quanto è che non compare nel mio video? Da quanto è che non compare nel mio video? Però fai i drink Me lo fai un onestissimo Ci inleva Mi fa un figo E che vorrei far notare il mio video? Chi fai un figo